Senti la rosa della Fiorentina, qui sono soltanto quelli che sono ripresi e poi manca ancora una settimana, dieci giorni, quanto manca per poter definire la rosa completa della squadra. Tutto oggi mi sembra che la Fiorentina si sia mossa bene, può darci che magari alla fine delle trattative riesca a fare il colpo importante e va davanti. Il colpo importante qui sogniamo Berbatov, potrebbe far fare Berbatov del Manchester United, si parla di quest'attaccante 31enne, una trattativa.